Un corso interessantissimo, veramente bello, non mi aspettavo questo, veramente complimenti per tutto, siamo solo penso a metà del corso, sta andando tutto bene, anzi sto portando a casa qualcosa di veramente bello, sono contento di essere qui presente, complimenti, top! Anche da parte mia è stata un'esperienza e lo sarà anche per la seconda parte del corso, penso unica perché già nella prima parte ho preso qualcosa di nuovo, era quello che mi aspettavo, non mi aspettavo un corso di taglio, è veramente bello!